C'è una giornata secondo me bellissima, per me mi hanno dato delle notizie bellissime che spero sia verino a novembre di cui non posso parlarvi, non posso dirvi niente Per il resto vi voglio dire alcune cose, questa settimana, questo venerdì alle 7 ci dovevano essere le prove di Osiride ma non ci saranno, questo per colpa del glitch del cacciatore che può attirare frecce illimitate Io non ho fatto video su questa cosa perché non mi andava che le persone lo vedessero e cominciassero a farlo sempre più persone, lo considero proprio una maniera scorretta di giocare in questo caso, specialmente in PvP come era comunque il glitch del titano Per quanto riguarda questa scelta della banca, secondo me è sbagliatissima, dovevano secondo me mettersi sotto, lavorare un pochino di più, fare un pochino tardi ieri notte e cercare di far uscire una patch per oggi In modo magari da ritardare Osiride ma di farla fare questa settimana perché tutti aspettavamo Osiride questa fine settimana perché sinceramente per conto mio sti cazzi dello standard di ferro A me quello che interessava era fare Osiride veramente però vabbè, lasciamo perdere Con questo hanno deciso quindi la prossima settimana, venerdì, di mettere l'hard mode, cioè la difficoltà eroica del ride che partirà da un livello di difficoltà che andrà da 3.10 a 3.20 Dove gli item che saranno droppabili all'interno saranno massimo di 3.20 quindi non 3.30 come pensavamo Io quello che penso è che ci sia una terza difficoltà forse o che aggiunghino qualcosa prima della prossima espansione che dovrebbe essere Vuoto Vex come si chiami a febbraio o forse dicembre In cui magari aggiungono le cose a livello 3.30 o a livello ancora più superiore Oltre a questo una cosa che a me non piace è il fatto che così Osiride scalerà a venerdì prossimo al 23 e quindi alle 7 di sera ci saranno sia il ride in hard mode sia Osiride Una cosa che splitterà le persone a fare o uno o l'altro Oltre a questo che secondo me non va molto bene come cosa splittare le persone così era meglio che facevano questa settimana così così la prossima settimana le persone avevano l'hard mode Destiny sta avendo molti cambiamenti in questo periodo stanno fixando molte cose specialmente quelle che sono le ricompense nel cala la notte come sapete ci sono ricompense veramente brutte Tipo droppare una runa antiquata droppare pochissime strane monete e così via che danno veramente fastidio o droppare tipo 3 3 di ori e tu fai lì tipo come io mi sono fatto un cala la notte mi sono fatto un culo così Se non è quello che dovrebbe fare la bungee sarebbe comunque alzare le ricompense e alzare la difficoltà assolutamente che se muori torni in orbita cala la notte deve essere difficile non devono essere tutti in grado di farlo Se sei bravo hai la squadra giusta hai gli amici giusti con cui farlo bene ci puoi riuscire e magari mettere anche il matchmaking di cala la notte cioè la scelta che tu puoi o farlo in solo perché è molto figo a volte fare cala la notte in solo o se no fare il matchmaking Oltre a questo è stato confermato a Luke Edward mi pare si chiami che ha della bungee che verranno comunque aggiustate le ricompense in base comunque ovviamente al cala la notte verranno sistemate Le altre cose che vi voglio parlare è che ci sarà un'arma esotica attualmente classificata acquisibile in Osiride tramite delle taglie esotiche Io sono curioso di sapere cos'è quest'arma perché tanto tempo fa esiste un lanciarazzi esotico della Suros dei tempi dell'alpha di The Taken King Ci sta il No Time to Explain ci stanno un sacco di cose per chi dice che il Fate of Fools ci sarà io vi posso cioè secondo me dire la mia opinione che il Fate of Fools non ci sarà Non verrà aggiunto all'interno del game è un'arma esclusiva per quella persona a cui gli è successo quella cosa spiacevole ed è riuscito a recuperare molte delle sue abilità mentali tramite Destiny Quindi secondo me non verrà messo il Fate of Fools ma il Coniglio di Giade è una sorta di Fate of Fools fatto male perché per chi ha visto il Fate of Fools in game Chi ha visto un gameplay sa quanto è forte sa quanto è bello e il Coniglio di Giade è un Fate of Fools perché ha lo stesso perk è sempre un ricognizione ma stat un po' diverse che non lo rendono infatti così forte Quella quindi è un'arma esclusiva solo per quella persona e noi avremo un fucile impulsi chiamato No Time to Explain che sarà il fucile proprio dell'ignota Per il resto bitches ci saranno sicuramente altre armi segrete eccetera eccetera che verranno aggiunte del tempo Io vi saluto bitches ci becchiamo al prossimo video spero vi sia piaciuto questo vlog without a single fuck cioè parlato proprio a bomba di quello che mi veniva in mente Come vedete io non mi preparo mai niente parlo a ruota sono molto prolisso io vi saluto bitches ci becchiamo al prossimo video Ciao